Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo del derby della Mole, appena finito con la 0 per la Juventus, un risultato molto estremizzito diciamo, ma diciamo che le prestazioni in campo sono state abbastanza nette, o meglio i livelli delle due squadre. La Juventus ha interpretato la partita in un modo, tenere palla il più possibile, cercando di non perderla, e arrivare con calma al gol. Diciamo che dopo la partita contro il Tottenham, contando anche quello che avremo dopo, oggi si è voluto ridurre tutto, e anche contando gli infortuni, spravenuti o già presenti, ridurre gli sforzi al minimo. Quindi tanto possesso palla, cercando poi di arrivare davanti. Il Tottenham è una partita, mentre l'interprete è in un modo diverso, molto chiusi, e Mazzari come sempre rende le sue squadre molto solide e abili nelle ripartenze, cosa che ha cercato di fare, poi ovviamente siamo senti bravi noi a chiudere le loro ripartenze, e quindi 1-0 per noi. Gol che arriva grazie anche ad un cambio, un cambio forzato, quello di Guaini, che in realtà mi mette un po' di preoccupazione, magari non è niente, però diciamo che Guaini non è solito uscire per l'infortunio, non è solito infortunarsi solitamente, e oggi ho avuto un problema alla caviglia dopo un contrasto che apparentemente sembrava, perché non è nullo, con Sirigu. Quindi inizialmente mi ha un po' stranito la cosa, poi è uscito così, diciamo che conoscendo il calciatore del personaggio, un milione di preoccupazioni c'è, perché chiaramente non siamo soliti a vedere Guaini a terra dolorante. Caviglia, vediamo poi cosa sarà. Ma avviene introdotto in un momento particolare, perché nel senso che adesso Guaini si infortuni, a manzo chiuso già non c'era perché ha la febbre, ma quindi non infortuni traumatici e così via, Bernardeschi è un po' cercato, che è costretto ad entrare per poi uscire verso la fine della partita per rifiattare, questo perché Bernardeschi in teoria non avrebbe potuto toccare, secondo i piani allegri, i piani allegri che sono andati in fumo con l'infortunio di Guaini, che arriva praticamente 15-20 minuti dopo l'inizio della partita. Con i balli tornato, insomma adesso che stiamo recuperando un po', ci mancherebbe anche che Guaini rimanesse fuori, contando che Guaini ha un peso specifico importante davanti. Ovviamente spero che sia uno di che, già il fatto che poi l'abbiamo visto in panchina tranquillamente, non negli spoletochi magari a fare dei massaggi e così via, lascia ben sperare, in senso che magari era solo una breve distorsione, una piccola botta o qualcosa del genere, che per precauzione è stato cambiato con Bernardeschi. Quindi la partita è stata interpretata così da due squadre, possesso da una parte e chiusure di partenza dall'altra. Una partita di per sé molto negliosa, e io dico spesso, penso spesso che questo sia un derby più per il fascino della storia intorno alle due squadre che per, in realtà, un derby in quanto sentito a livello agonistico, nel senso che, vabbiamoci chiaro, sarà da 20 anni, che comunque il Torino e Juventus sono su livelli totalmente distanti, differenti, pertanto è inutile pretendere che poi siano partite di rilievo. Gli ultimi partiti che ricordiamo molto con piacere del derby sono, ad esempio, quello con golli che arrivano al 93esimo, perché? Perché chiaramente una partita che resta come questa, in ballo, in stallo, su uno stesso giultato per 90 minuti, chiaro che nel momento in cui Pirlo o Quadrado segna il gol dopo nel recupero, chiaro che poi il derby cambia volto e diventa molto interessante. Ma su 95 minuti, con un gol che arriva al 93esimo come qui Quadrado, quei 90 minuti ricordo benissimo, nel senso che non ricordo da quanto noiosi possono essere stati, magari con qualche poche azioni, ma di per sé, quando arriva così all'estremo un risultato, è perché, restano le partite, insomma, è che aveva avuto grandi occasioni. Queste è stata una di queste occasioni, Siriu ha fatto ben poco, Cesni ancora meno, già il fatto che Siriu ha fatto ben poco, nonostante la Juventus aveva avuto la palla tutto il tempo, vuol dire cosa? Che questa è una partita tormentata da una parte all'altra per interessi diversi, vedete Mazzarri poi ha anche cercato di spostare il peso in avanti con il cambio Edera e Niang, ma chiaramente lui ha detto che è stato molto bravo a chiudere, ma soprattutto a non dar mai palla agli avversari, facendo un posto a palla anche noioso, ma molto più ragionato e perfetto rispetto ad altre occasioni, con pochissimi errori, pochissimi, nella media, senza strafare come talvolta succede, di errori che poi hanno dato la palla agli avversari con qualche contropiede. Nel secondo tempo abbiamo visto un pari di contropiedi, uno importante nel primo tempo chiuso benissimo da Rugani, tra l'altro su un passaggio rimpallato male, insomma, in cui Rugani è bravo a tenere due giocatori di contropiedi del Torino e li tendoli bene fino alla fine senza far tanni. Quindi chiaramente il Torino ha giocato sulle nostre ripartenze e su quello che abbiamo sbagliato noi. Cosa che abbiamo visto sempre, cosa che vediamo sempre nelle partite in cui noi siamo contro una squadra visibilmente più scarsa, perché già contro il Napoli, contro la Roma, così, vediamo delle situazioni diverse. Quindi questa è la partita. Di tutta la partita sono tre punti importanti, perché tre punti importanti per stare sempre più attaccati al Napoli, tre punti importanti per distaccare anche da quegli altri, perché l'Inter inizia a perdere pezzi, la Roma non mi ricordo neanche, la Roma ha portato a casa da Udi un bel risultato positivo, ma chiaramente ormai sono distanziati quelli dietro di noi, c'è solo il Napoli da vedere e a tenere d'occhio, perché ora si gioca fino alla fine e difficilmente morirà il Napoli di qui a maggio. Quindi sarà un campionato molto interessante per i primi due posti, più che per gli altri. Detto questo ragazzi, oggi mi sento di provare a tutti, si è tutti promossi, molta positiva sono Vede Sciglio, che ormai sembra avere una certa dimestichezza col ruolo con la giocata, quindi molto bene. Rugani, che oggi è stata una partita poco provante dal punto di vista difensivo, cioè di fase difensiva, tutti insieme, corralmente, abbiamo fatto bene, abbiamo chiuso chiaramente i contropiedi del Torino, dal punto di vista individuale poca roba potuti, nel senso che hanno fatto veramente poco, non per dei meriti loro, ma perché chiaramente come detto la partita è stata aumentata molto bene da noi, però Rugani in quel paio di occasioni si è gestito bene. Gestito bene Chiellini, a Samoa come terzino, perché Alexander si è spostato in avanti, i tre di centrocampo bene Pjanic, anche se chiaramente, anche oggi come vi ripeto, oggi era un palleggio molto tranquillo, blando, senza grandi pretese, che direi su Raro, ho fatto palegnami, insomma, come sempre. Davanti Douglas Costa, Bernardeschi, che di Levi-Wayne, chiaramente, e Alexandro come esterno, fino avanti. Mi è piaciuto molto Bernardeschi, che secondo me ha cambiato un po' la partita, infatti l'assist arriva da lui, questo perché Bernardeschi l'ho visto molto bene, nonostante avesse un piccolo acciacco, vabbè. E Douglas Costa, un po' impreciso, ha anche lui permesso di imparare un paio di contropiedi al Torino, è stato lì a rbagliare, diciamo che lui va a scatine, se non chiamo, nei momenti di apice, poi magari si addormente un po', è un po' nelle sue corte, perché è un giocatore di questo tipo qua. Mi è piaciuto molto, gol a parte, Alexandro, un'altra positiva a Alexandro, che, privo dei compiti difensivi, da molto il meglio di se stesso, infatti era praticamente molto avanti, molto avanzato, quando la Samoa che copriva dietro. Poi è entrato Di Vala, che torna dopo l'infortunio in due mesi, quindi speriamo che non vuoi ritorno, un po' alla volta dovrà prendere dimestichezza col campo, e infine Liechtenstein e Robema, non ha fatto niente. La cosa che mi ha dato feste di questa partita è che, al di là di poi di quanto possiamo parlare male dei tifosi di Torino, che ieri sono, insomma, in qualche modo, fatti vedere per il peggio di loro stessi, nella partita della primavera, con insulti e così via, che poi, sapete, il nostro nuovo Leandro Fernandez della primavera ha risposto con un dito medio, che è stato quello preso di mira come lo scandalo, quando in realtà c'è di bene peggio, quando ci sono dei cinquantenni, delle persone di una certa età, che insultano anche dal punto di vista di rassismo, anche tipo, invocando madri e padri e così via, ragazzi di 16-17 anni, massimo 18, che sono quelli della primavera. Non dovrebbe succedere neanche con quelli di 30 anni della prima squadra, ma credo che sia ancora peggio insultare in questo modo dei ragazzini, perché alla fine sono dei ragazzi, più giovani anche di me, quindi fate voi. E poi, però, ovviamente, sappiamo che quello discorso là, Leandro Fernandez è scusato, la Juventus lo monterà, quindi la Juventus si è pulita la coscienza, anzi, quando magari in quel caso poteva anche farne a meno, visto che c'è ben più grave ciò che è successo sui spatti, che in campo per questo dito medio così di impeto. Per quanto riguarda oggi, non mi è piaciuta la gestione della partita da parte di Torino per quanto riguarda i falli. Oggi il Torino ha cercato di tanti falli, ha fatto tantissimi falli, pochi sanzionati come sarebbe stato giusto, primo su tutti i Ansaldi, su Pjanic che entra col piede a martello, cioè, neanche giallo, era da rosso ma neanche giallo. Quindi qui l'arbitro ha anche sbagliato, perché effettivamente doveva dare subito un impronto di come sarebbe stato l'arbitraggio, partendo da quel fallo là. Quindi oggi Torino se l'ha buttato anche molto sul fisico, sul menare, quindi diciamo che in qualche modo il Torino ha evidenziato i limiti che poteva solo menare, tra virgolette, per riuscire a fare qualcosa di discreto. Ed è questo ragazzi, forse come sempre, il prossimo video ci vediamo, sarà quel che sarà. Ciao! Paura, 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 paura Paura, 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 paura